Si è svolta nei giorni scorsi a Cles, all'attenso struttura allestita al centro dello sport e del tempo libero e in video collegamento dall'auditorium del Palarotari, l'Assemblea Generale dei Soci della Cassa Rurale Valdinon-Rotaliana-Giovo. Un'Assemblea dei Soci da record dal punto di vista dei numeri, sia per i valori del bilancio portato in approvazione che per la partecipazione dei soci davvero importante, che ci ha emozionato e fatto percepire l'attaccamento dei soci alla loro Cassa Rurale, ha detto il presidente Silvio Mucchi. Un'Assemblea finalmente di nuovo in presenza, insieme, per poter respirare il senso della cooperazione, ha aggiunto. Alla presenza di 3.355 soci pari al 24% della compagine sociale, si sono votati all'unanimità tutti i punti all'ordine del giorno. La prima parte è stata dedicata all'Assemblea straordinaria, alla presenza del notaio Patrizia Pagano, per l'approvazione di una modifica tecnica di un articolo dello Statuto, se poi passate all'approvazione del bilancio e alla destinazione dell'utile. Il direttore generale, Pina Monti, ha esposto i dati di bilancio 2022, sottolineando come il risultato economico importante, l'utile pari ad oltre 19 milioni di euro, sia stato sicuramente influenzato da contesti economici straordinari, portando ripercussioni positive sulla gestione della tesoreria aziendale, ed abbia permesso di accantonare prudenzialmente nei fondi svalutazione e analitici risorse pari al 100% dei crediti deteriorati. Gli ottimi risultati di gestione degli ultimi esercizi, ha detto Pina Monti, hanno rafforzato il patrimonio incrementato notevolmente negli ultimi cinque anni. In Assemblea è intervenuto come ospite il presidente della Federazione Trentina, della cooperazione Roberto Simoni, che ha fatto notare come i numeri esprimono bene la solidità della Cassa Rurale, che ha saputo rafforzarsi in pochi mesi dalla fusione con la Cassa Rurale, Rotaliana e Giovo, mantenendo la propria identità mutualistica. La Cassa Rurale, Val di Non, Rotaliana e Giovo, lo ricordiamo, si sviluppa tramite le 35 filiali nei territori della Val di Non, passando per Mezzo Lombardo, Sfor Maggiore, Rovere della Luna, buona parte della Val di Ciembra, e quindi da San Michele e Grumo, arriva fino alla Vis, servendo oltre 40.000 clienti.